E' tempo! Scusa, non conosco il verso di questo animale. Prova a chiedere un altro verso. Ecco il verso che hai chiesto. Perché non trovare un altro animale? E' mercura! Scusa, non conosco il verso di questo animale. Prova a chiedere un altro verso. Ecco il verso che hai chiesto. Volesti uno suono animale che ha sguardo? Ecco il verso che hai chiesto. Quale suono animale vorresti sentire adesso? Ecco il verso che hai chiesto. Vorresti un suono animale casuale? E' un altro, sempre il lupo o no? Prova a dire struzzo. Parla lì. Scusa, non conosco il verso di questo animale. Prova a chiedere un altro verso. Mucca. Ecco il verso che hai chiesto. Prova a chiedere un altro animale. uccello. Può semplicemente dire il caso. Uccello. Scusa, non conosco il verso di questo animale. Prova a chiedere un altro verso. Uccello. Scusa, non conosco il verso di questo animale. Uccello. Prova a chiedere un altro verso. Uccello. Ecco il verso che hai chiesto. Uccello. Bravo. 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 ti sentire